Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale ci aiuteranno a fornirvi, sette giorni su sette, informazioni sempre gratuite. Grazie di cuore. Il 13 febbraio è stato eseguito il processo di riesumazione del corpo di Liliana Resinovic, il quale sarà ora trasferito presso l'Istituto di Medicina Legale di Milano per essere esaminato. Durante la riesumazione erano presenti sia Sebastiano Vicentin che Claudio Sterpin, due uomini molto importanti nella vita di Lilli. Sebastiano Vicentin, però, ha cambiato idea riguardo alla morte della moglie solo al momento della riesumazione. Infatti, il marito di Lilli aveva sempre escluso la possibilità che si fosse tolta la vita. Tuttavia, intervistato dai giornalisti all'esterno del cimitero, si è mostrato ormai convinto che la moglie si sia suicidata, una convinzione derivante dalla profonda conoscenza che aveva di lei e dall'assenza di possibili nemici. Subito dopo, la dichiarazione shock di Claudio Sterpin ha fatto emergere nuove perplessità. Ora ho paura, ha dichiarato, non è morta dove l'hanno trovata. Altrimenti, sarebbe stata divorata dalle volpi. Ha anche suggerito che sarebbe stato comodo per alcuni liquidare la questione con la tesi del suicidio, mentre Sterpin ipotizza che Liliana sia deceduta il 14 dicembre e che il suo corpo sia stato tenuto da qualche parte prima di essere portato sul luogo del ritrovamento. Anche il fratello di Liliana, Sergio, condivide la stessa idea, rifiutando categoricamente il fatto che, sua sorella possa essersi suicidata. E voi, cosa ne pensate di questo caso? Siete d'accordo con l'idea di Claudio Sterpin o con quella del marito, Sebastiano Vicentin? Lasciate la vostra opinione qui sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per avere ulteriori aggiornamenti. Grazie.